Ok, adesso dobbiamo parlare un pochettino di campo, un pochettino seriamente di campo. Allora, io ieri avrei messo non tutti questi titolari in campo, ma non perché dovevo snobbare la partita, anzi, perché mi ero accorto che ultimamente, nelle ultime due o tre partite, tipo Aslani, Frattesi, erano veramente caldi, erano veramente caldi e ieri serviva proprio aggredirli, serviva ieri e chiuderla almeno 2-3 a 0. Potevamo farlo anche in quel modo, però sempre quegli 11 ieri sono mancati, diciamo psicologicamente, mentalmente sono mancati. Vuoi perché giocano sempre gli stessi, vuoi per un po' di stanchezza, vuoi per aver sottovalutato un pochettino l'avversario. Io ieri avrei messo la panchina, avrei messo Buchanan, perché quella è la partita dove tu dici Vai, oggi tocca a te, fammi vedere. Quindi la voglia di far vedere, l'entusiasmo in Europa era stato diverso, secondo me. Ma non è una critica a Inzaghi, è che bisogna capire, bisogna essere lucidi in certi momenti e avere il coraggio, hai capito Stan? Il coraggio. Perché io ieri avrei fatto riposare, oppure al primo tempo, non avrei schierato ieri al primo tempo, Mkhitaryan e Cialanoglu. Perché io immagino un Mkhitaryan che entra e un Cialanoglu al secondo tempo sarebbero stati devastanti, hai capito? Con meno minuti, hai capito? È stato lì che io ieri, infatti, ho pensato questa era la partita di quella gente che è in panchina, che ha voglia di far vedere, che ha voglia di darsi, hai capito? Infatti io, cioè io, personalmente avrei fatto in questo modo, avrei messo la panchina, poi c'è mancato pure Carlos Augusto di là, però avrei messo titolare, a questo punto se dovevo mettere gli undici, avrei messo Darmian, io titolare, hai capito? A me, Dumfries a me serve più al secondo tempo, perché ormai abbiamo capito, Dumfries è da partita inoltrata, hai capito? Può fare la differenza, hai capito? Un Cialanoglu coraggioso, è stato l'unico lì in mezzo che ha cercato, perché se io leggo che le due squadre si affrontano a specchio, perché eravamo a specchio ragazzi, allora lì non va bene, hai capito? Non va bene, quindi secondo me siamo usciti, come si dice, da polli, hai capito? Da polli, e qui Simone ha peccato un pochettino, cioè lui sai cosa pensa? Che sempre con quegli undici va sempre bene, no, invece no, invece no. Poi Lautaro ha fatto, sì, ha fatto due cose importantissime. Turam mi ha giocato spalle alla porta, hai capito? Io avrei avuto un coraggio diverso, avrei messo i panchinari ieri, Fratesi, Aslani, Bissek, l'avrei messo subito, avrei messo Bissek, Acerbi e Bastoni, perché Pavard l'avrei cambiato subito io, perché si è capito, dal primo gol preso si è capito che Pavard non c'era. devrai quei gol se li lascia prendere un pochettino spesso, infatti è capitato anche, non mi ricordo ora, con Kip stesso gol, capito? Quindi Bissek, Acerbi e Bastoni avrei fatto io, ma è una questione di coraggio, hai capito Stella? Tanto gli obiettivi sono altri, ok? Mettiamo gente che ha voglia di dimostrare, hai capito? è questo, quindi l'analisi è questa qui, cioè con quegli 11 non sempre ti va bene, specialmente in Europa, hai capito? Quindi avevamo un Aslani caldo, un Aslani che ha dimostrato le ultime due partite veramente di, che hai capito, molto caldo un frattesi che ieri ha spezzato qualche ritmo, hai capito? È così, così, e avrei messo titolare a Bill Cannon, basta, Bill Cannon fammi vedere, non avrei messo e ci voglio, cioè hai capito? Quello step mentale di dire ma me la gioco, via, toh, hai capito? È in questo modo, invece Simone è stato sempre, è stato, è stato sulle sue, hai capito? In questo modo, è così, analisi veloce.